Buongiorno, vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo. Arriete, cercate in questo periodo di trovare un vostro equilibrio naturale. Toro, basta piangervi addosso, pensate positivo e cercate di migliorare. Gemelli, gelosie inutili vi assaliranno, non lasciatevi andare, assenate e non rovinatevi la giornata. Cancro, buone possibilità di riuscire a rilacciare i rapporti con persone che non vedete da tempo. Leone, oggi affronterete una situazione armandovi di pazienza e cercando di spiegarvi meglio possibile. Vergine, qualcuno tenterà in tutti i modi di farvi perdere la calma e farvi arrabbiare. Bilancia, ottime prospettive oggi per chi cerca un lavoro nuovo o vorrebbe averne uno, si tratta però di insistere presso le persone giuste. Scorpione, opponete la giusta grinta e una buona determinazione a una giornata che potrebbe risultare molto noiosa. Sagittario, ci saranno notizie in arrivo per email o sms. Capricorno, non perdetevi in chiacchiere, siate più decisi e pronti a dire ciò che pensate. Acquario, giornata piacevole e affetto dagli amici, cercate di socializzare. Pesci, guardate lontano, oltre l'orizzonte, nuove amicizie interessanti si prospettano per voi. Questo è tutto, a domani con il prossimo appuntamento dell'Oroscopo. Grazie. 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 Grazie.